Si parlava di raccolta differenziata e demonizza, a Catania c'è a Barzelletta una demonizza e protagonista. Ora voi immaginate, no, quando succede, Biagio, nella Barzelletta che c'è l'amante, di solito l'amante che torna a casa è il marito che scopre la moglie con l'amante, invece in questa Barzelletta no, è la moglie che torna a casa e il marito è alle prese con l'amante, quindi è un'altra femmina, per cui come il marito sente la porta che si schiavetta, dice presto, c'è mia moglie, presto, nasconditi, chiede, sì sì, mi nascondono, e bagno? No, c'è un do bagno, no, mia moglie è la prima cosa che fa quando torna a casa, c'è un do bagno, come tutti i femmini, c'è allora mi metto nell'armadio, no, mia moglie è la seconda cosa, va nell'armadio, c'è allora che faccio? Viettiti dalla finestra, ma come viettiti dalla finestra? Siamo al quarto piano, c'è vabbè, che importanza è la viettiti, c'è ma se arrivo là sotto muoio, c'è ma perché sono cazzo mia mogliere, moremo tutti noi, viettiti, no, viettiti, no! C'è la piglia di forza e la lancia dalla finestra, quattro piani, ma sono mesi, meno male che c'era un cassonetto dalla munizia da sotto, e meno male che a Catania, grazie a Dio, non se la pottono sempre, un cassonetto era bello chino, c'è arrivato a un'ora, moglie a moglie dentro il cassonetto, ora salvo nell'arrivare dopo quattro piano. Sì, già immagino. Siccome la testa è la parte più pesante, no? Arrivavo proprio a pisce, come ci sono dite. A testa sotto e per all'aria, no? Anzicca la testa dentro questo cassonetto, signori miei, non si fici niente, mi chiede a chino, però c'è, ti arrastavo, mezza inza e mezza fuori. Diciamo che la patta che arrastavo fuori era la parte più panoramica della signora. Ho capito, ho capito, perché sei a testa sotto, piedi all'aria, quello resta fuori. Mi alzo un attimo, perché a un certo punto il cassonetto passa in micchierello, un signore anziano che passa, viene attratto da questo panorama, da lì e fa, non si fa, non si fa, non si fa, però vedi, in questo caso la spazzatura era stata utile. Era stata utile.